Buonasera Marco Nacciariti, amministratore delegato della Maceratese, alla vigilia di una partita della squadra bianco-rossa importante, meno facile di quello che sembrerebbe il rapporto di classifica all'Aquila. Io direi che è una delle tante importanti. Per noi in quest'anno non conta mai l'avversario, per noi conta la singola partita. Il mister come tutte le altre le sta studiando con il giusto piglio. Sicuramente in questo momento del campionato fare risultato è importantissimo per continuare il rullino di marcia che abbiamo positivo. Quindi andremo sicuramente all'Aquila con il piglio di fare risultato. Ecco, questo è in dubbio, no? Data la, diciamo, fra virgolette cattiveria agonistica della squadra di Bucchi, forse non vista proprio contro la Pistoiese, però Bucchi non era in panchina. Questo giustificherebbe alcune cose. Pio ci sarà, dalle difficoltà tecniche, questa è una squadra dell'Aquila formata da giocatori importanti. È difficoltà ostiche date sicuramente dalla difesa, la quale in casa lascia pochissimo spazio agli attaccanti e pochissimo spazio alle squadre che vanno lì a far punti. Certamente ha un centrocampo importante, la classifica non le rende onore in questo caso in merito. Sicuramente è una delle tante squadre che quest'anno in Lega Pro ci metterà in difficoltà, ma questa maceratesi in questo momento anche storico sicuramente non ha paura di quest'Aquila. Anche in considerazione che c'è uno scontro diretto tra il Pisa e la Spala. Sì, guardiamo molto attenti questo scontro, in questo momento sicuramente faremo tifo al Pisa perché, ti ripeto, per me la Spala matematicamente ancora non è al primo posto. Quindi lascia sottintendere qualche pensierino vostro in questo senso, con questa battuta. Lo abbiamo avuto tutto quest'anno, finché la matematica non ci condanna, perché non sperarlo? Ok, grazie.